Amici, buonasera. Questa volta parliamo di quartieri che hanno in comune delle importantissime testimonianze storiche. Partiamo dal diciassettesimo quartiere, il Trieste, che prende il nome dal corso che lo attraversa e ne rappresenta la spina dorsale. Già nel vicino Monte Antenne abbiamo un'importante testimonianza storica. Esisteva un villaggio che si chiamava appunto Antemne, da cui i romani presero le sabine. Faceva parte della sabine e fu il ratto delle sabine. Dopo l'editto di Milano del 313 d.C. che sancì la religione cristiana come quella dell'impero romano, furono costruite due importanti costruzioni religiose, la basilica di Sant'Agnese fuori le mura e il mausoleo di Santa Costanza. Arriviamo ai tempi nostri e abbiamo il quartiere di Gino Coppedè, quella zona che sta intorno alla piazza Buenos Aires, popolarmente nota come piazza quadrata. Il portone di piazza Mincio 2 è la copia fedele della scenografia del film Cabiria, un film muto del 1914, Giovanni Pastrone. Vicino abbiamo un'altra importante testimonianza storica recentissima, il Piper, a via Tagliamento. Vi esibirono Patti Bravo, Pink Floyd, Nirvana, Beatles, che andarono a farsi il bagno alla fontana di piazza Mincio. Quindi è una cosa importantissima. Il quartiere Quinto, Nomentano, che segue, non è meno importante. Prende il nome della via Nomentana, una zona residenziale, presto venne subito a saturarsi. Durante la seconda guerra mondiale dovete subire purtroppo diversi bombardamenti. Addirittura quello del 14 marzo del 1944 fu il terzo più pesante, sia il numero di vittime che per tonnellaggio dell'armamento che fu esploso. Fortunatamente l'incremento di diritto ha cancellato ogni traccia di questi bombardamenti. Il quartiere ospita oggi una grande comunità ebraica intorno a Piazza Bologna, dove esiste una importante sinagoga a via Padova. Concludiamo con Montesacro, il quartiere che ebbe una collinetta di 50 metri, che ebbe il destino di ospitare la ribellione dei plebei ai patrizi con il famoso apologo di Menenio Agrippa. Si trova in questo luogo il ponte Nomentano, dove nell'Ottocento d.C. avvenne lo storico incontro tra Papa Leone III e Carlo Magno. Ma soprattutto è importante questo quartiere perché qui vediamo scorrere il secondo fiume di Roma, l'Agnene, a cui ho dedicato questo sonetto. L'Agnene, da Monte Antenne a Trevi nel Lazio. Se smizzo è piccoletto, caro Aniene, ma il nome che te danno è Teverone. Finisci a Roma e l'acqua tua ce tiene a Namorino, fiume Fan Corvone. Voglio partire da qui e tornare bene, risali indietro come fan sarmone, tra borghi antichi, boschi e valli amene, parlando con i Santi e con Nerone. Nocchiata all'Artopiani da Arcinazzo, Traiano là trovava la frescura, l'aria frizzante che te dà sollazzo. L'Agnene a Filettino in Trennatura, a Trevi, Magni e Spenni, qui te spiazzo. T'aspetti a Rima e c'è la fregatura. Buonasera a tutti, amici. Grazie. Grazie.